Il Giramondo, Janus River, è arrivato sulle sue due ruote a Castellabate. Ospite del comune cilentano e accolto dagli appassionati di ciclismo. Sarallo Giorgio, vicepresidente dell'associazione Cilento MTB, che rappresenta la maggior parte del cilento per quanto riguarda il ciclismo. Ci tenevo a salutare il nostro amico perché è sempre un'emozione trovare persone che seguono questo sport e che visitano il nostro territorio. Comunque è molto bello da visitare, soprattutto in bici. Una storia unica che passa anche da Castellabate. Janus River ci ha raccontato un po' di lui e del suo viaggio, che ha dell'incredibile. Sono in Italia tre anni, girato tutti i regioni, ogni giorno un paese. Questo unico paese che è organizzato in modo molto originale per me mangiare, perché io sono sponsorizzato da Proloco, da Federalberghi, raramente dei comuni. E oggi il comune ha inventato ospitilità speciale. Per questo sono contento, qui posto bellissimo, posso dire girato tutta provincia Salerno per ora, mai visto una posta così e credo che è difficile trovare. Il giro del mondo è iniziato il 99 dicembre, ultimo giorno del mio casa di fregene a Roma, che è lasciato tutto, è diventato cittadino del mondo. È partito fino a Isole Canarie e da lì è iniziato il giro del mondo con il giro dell'Europa, che è durato quattro anni, è arrivato a casa da Isole Canarie della Spagna fino a casa di Babbo Natale a Norvegia. Con mie condizioni, tre euro in tasca, sacco pelo, 81 anni e 30 chili di bagagli. Mai stato Vitamia malato, mai visto dottore Vitamia, questo secondo, mai caduto da bicicletta durante viaggi e mai bucato. È fatto per ora 400.000 chilometri circa, che è una distanza da terra a luna, per avere una idea. Ma ha avuto un sogno, un sogno si dice, un sogno, che sto mangiando un primo italiado. Si è alzato mattina e ha detto, prima di morire voglio mangiare bene. Dove si mangia meglio del mondo? Italia. Tutti i bambini che io incontro a scuole sanno questa cosa. E tutti i giornalisti, perché Italia si mangia bene. Per questo ho deciso a fare, è girato già tutti i regioni italiani e tutte le isole che avete. Mi manca solo Campania e Lazio. È finita. Allora benvenuto, benvenuto a Castellabate. Sta salutando dal luogo dell'incanto.